Gravitrax, la pista di piglie del futuro. Sperimenta infinita combinazione, fai sfrecciare le piglie a tutta velocità e sfida con i tuoi amici la forza di gravità. Gravitrax, la pista di piglie del futuro. Costruisci meravigliosi puzzle 3D Ravensburger, pezzi unici, snodabili, indistruttibili, di altissima tecnologia made in Europe. Costruisci il favoloso castello Disney. Grande meraviglia, la Night Edition, con i LED.